all'autrice, ma vi invito, se avete dubbi, se volete intervenire, se qualcosa non vi sta bene, che dico? Alzate la mano e parliamo. Facciamo che questo sia con la bonomia e la disponibilità di Roberta classica, adesso ce l'abbiamo non schermata da un vetro del televisore, ma ce l'abbiamo di persona, quindi approfittiamone. Concepisco le presentazioni come un'intervista, però due parole sul personaggio e non sull'opera, lasciatemele dire, perché poi questo personaggio specifico, credo che chiunque in Italia, se tu gli dici la parola criminologa, la prima associazione che gli può venire è Roberta Bruzzone, ma io quando l'ho conosciuta non era ancora la criminologa che tutta Italia conosce, ma era una bravissima conduttrice, nonché reporter, di una televisione privata in cui faceva degli interventi sempre mirati sul noir, sulla criminalità, eccetera. E adesso è diventata quello che tutti sappiamo, elencare i riconoscimenti, le opere, le cose che fa i programmi televisivi a cui interviene regolarmente, prima o tra tutti porta a porta, i casi che ha seguito da Avetrana ad Arce, praticamente tutti, ecco, porterebbe via questa ora di cui abbiamo parlato prima. Quindi andiamo subito sul libro. Il libro racconta due vite, vittime e assassino. Gianni Versace che viene assassinato il 15 luglio del 97 a Miami e il suo assassino, Andrew Cunanan, che è un po' il rovescio della medaglia. Vorrebbe essere quello che è Versace, non riesce ad esserlo e quindi lo annienta, lo uccide con quattro colpi di pistola calibro 40, calibro inconsueto. Un delitto tutto sommato semplice, i detti spesso sono semplici. La prima domanda che faccio a Roberta è perché proprio su questo delitto hai voluto scrivere un libro? Ma guarda, io ho avuto l'onore di ricevere una proposta da Rai Libri per occuparmi di un caso che a loro interessava e che soprattutto a me interessava il tipo di taglio del libro che mi hanno proposto. Quindi era una storia che avevo lungamente seguito perché ha intercettato, anche se in maniera collaterale, un'altra vicenda di cui mi sono occupata invece in maniera molto più approfondita che è la vicenda di Chico Forti, il nostro connazionale condannato negli Stati Uniti per un delitto che, a mio modo di vedere, anche sulla scorta di un report che consegnare nel 2012 al nostro governo non ha commesso. Quindi chiaramente la storia di Forti inizialmente trae in qualche modo degli elementi dalla storia di Versace perché lui forti mise fortemente in discussione la ricostruzione che aveva offerto la polizia di Miami, l'FBI e la procura di Miami in relazione alla morte di Cunanan. Quindi già molti anni fa io ebbi modo di esaminare parecchia documentazione che, anche se in maniera collaterale, riguardava proprio il delitto di Gianni Versace e soprattutto le circostanze in cui si è verificato il decesso di Andrew Cunanan. Quest'anno cadeva chiaramente il venticinquesimo anniversario della morte di Versace, l'editore era interessato ad affrontare nuovamente questo caso ma con l'obiettivo di portare alla luce gli elementi oggettivi dell'inchiesta, quindi sgombrare il campo da tutta una serie di leggende più o meno metropolitane che avevano riguardato in particolare i due principali protagonisti, Giocoforza Gianni Versace e naturalmente il suo assassino Andy Cunanan. Quindi la decisione di scrivere questo libro nasce soprattutto dalla volontà di restituire verità a chi è stato in qualche modo additato in maniera assolutamente erronea e anche diciamo assolutamente scorretta, in chiave diffamatoria intendo, come una sorta di soggetto che aveva delle ombre e queste ombre in qualche modo l'avrebbero trascinato in questo destino di morte. Il riferimento a Gianni Versace e a tutte quelle fantasiose ipotesi che lo volevano assassinato dalla criminalità organizzata e che addirittura la criminalità organizzata avesse messo in scena il suicidio di Cunanan per chiudere in fretta e furia l'inchiesta su Versace. In realtà i fatti e le circostanze che gli atti ci restituiscono raccontano ben altro e il libro è proprio un viaggio sia diciamo in tutti i delitica commesso Cunanan con particolare riferimento a quello di Versace ma io li affronto tutti, ma è soprattutto un viaggio nella mente di Cunanan, quella mente che ha deragliato rispetto a una traiettoria di vita che poteva portarlo in ben altra direzione e che invece poi alla fine entra in collisione terribile con la traiettoria di vita invece di Gianni Versace. Hai detto bene Cunanan sceglie l'unica vera vittima della sua serie motivando questa scelta non dall'estemporaneo bisogno di gestire la fuga o comunque una serie di situazioni legate alla sua sfera relazionale ma sceglie Gianni Versace dopo un periodo di raffreddamento tra l'ultimo delitto e il delitto di Gianni di oltre due mesi perché sa che ormai ha i giorni contati, sa che la sua vita sta per finire perché ormai è uno dei maggiori ricercati d'America, è un soggetto che ha un ideale di sé assolutamente spropositato, questo se grandioso malevolo non poteva accettare l'idea di finire i propri giorni in carcero magari nel braccio della morte e quindi progetta un omicidio eclatante, spaventosamente coraggioso dal suo punto di vista perché lui deve diventare un mito, deve essere indimenticabile che era poi l'ossessione che lo accompagna già da bambino fondamentalmente e sceglie purtroppo la via peggiore per rendersi tale, purtroppo ci riesce perché ancora oggi a distanza di 25 anni siamo ancora qui e parliamo di lui ed è una storia che ancora ha parecchio da raccontare, io nel libro avendo fatto un approfondimento effettivamente molti aspetti non li conoscevo nonostante conoscessi la vicenda e devo dire che la storia di vita soprattutto infantile di Cunanan è paradigmatica nell'evoluzione di una personalità disturbata quindi è anche molto utile in qualche modo approfondire quell'aspetto per comprendere come si fa a trasformare un bambino in un narcisista maligno pericolosissimo perché quegli ingredienti di questo tipo di ricetta ci sono tutti, soprattutto da parte dei due genitori di Cunanan, quindi l'obiettivo era questo cioè ripristinare un po' di verità e di correttezza in un mare magnum di informazioni che erano molto diciamo deragliate sulla strada della fantasia mi ha fatto molto piacere che qualche settimana dopo l'uscita del libro quest'estate proprio il fratello di Gianni, Santo Versace, mi ha proprio ringraziato pubblicamente perché finalmente il libro restituisce al fratello quella dignità che post-mortem hanno cercato di sottrargli Sentite, una volta mi è capitato di presentare un autore laconico che alle domande rispondeva più o meno sì, no, non lo so ed è stato un incubo perché mi dovevo tirare di fuori credo che questa sera non avrò questa difficoltà No, credo di no Ora, mi ero dimenticato di dire che prima di assassinare Gianni Versace, per chi non lo sapesse Cunanan uccide quattro persone Sì, due amici Uccide una coppia Prima il suo miglior amico, poi Jeff Trail poi l'unico uomo di cui sarei innamorato, a suo dire, David Manson poi uccide un ex cliente molto facoltoso a Chicago, Lee Miglin e poi uccide l'ultimo, diciamo, prima di Gianni una persona che tragicamente nel posto sbagliato, all'unimento sbagliato perché vuole sottrargli il pick-up perché deve liberarsi velocemente dalla macchina da vittima precedente perché aveva un GPS, diciamo, e un telefono collocato quindi era tracciabile e lì uccide appunto William Rees per sottrargli il pick-up Dopodiché arriva a Miami e dopo due mesi, il 15 luglio, uccide Gianni Versace eppure Kunan non può essere definito un serial killer non in modo tradizionale ma va usata un'altra definizione che molte persone non conoscono e di cui abbiamo invece letto ultimamente con gli omicidi di Gian Davide di Pau cioè l'uomo che a Roma ha assassinato tre prostitute uno spy killer allora vorrei che Roberta, se possibile, delineasse intanto nello specifico ma poi qual è la differenza? Beh, la differenza, diciamo, è principalmente legata alla tipologia di motivazione che porta agli omicidi e alla distanza temporale tra i vari eventi omicidiari quindi Kunan i primi praticamente quattro omicidi li commette nell'arco temporale di dieci giorni quindi con una, diciamo, tempistica estremamente ravvicinata senza il cosiddetto raffreddamento e sono tutti omicidi motivati da, diciamo, scenari alternativi cioè diversi perché prima uccise Jeff Trail perché da Jeff Trail si sente tradito, umiliato in qualche modo deluso una sorta di sindrome abbandonica, diciamo, abnorme e lo uccide a martellate quindi gli fracassa il cranio con numerosi colpi appunto portati con un martello davanti a un terrorizzato David Manson il tutto accade all'interno dell'abitazione di David Manson a Minneapolis quando Kunan dopo una serie di vicissitudini rovinose cade in totale povertà comincia a spacciare anabolizzanti e cocaina e chiede aiuto a quelli che lui ritiene essere gli unici amici che ha al mondo sostanzialmente ossia Jeff Trail e David Manson Jeff Trail lo conosce da parecchio tempo però Jeff Trail non lo stima affatto anche se non gliel'aveva mai fatto capire in maniera esplicita va a Minneapolis convinto di trovare aiuto e supporto in Jeff Trail e in David Manson che è stato suo amante e di cui Kunan era ancora, diciamo, innamorato ma in realtà entrambi con lui non è che ci vogliono avere granché a che fare durante una cena che doveva essere un po' una sorta di chiarimento finale ma finalizzato a dirgli guarda che noi con te non vogliamo avere più niente a che fare perché lui raccontava bugie in maniera compulsiva insomma era un soggetto comunque ritenuto instabile anche da loro che erano anche preoccupati che potesse diventare anche aggressivo fanno questa cena a casa di David Manson a Minneapolis e durante questa cena Jeff Trail evidentemente insomma gli ha rappresentato la realtà quindi l'ha fatto sentire un fallito una sorta di rifiuto umano e questa cosa lo ha mandato su tutte le furie e l'ha portato a ucciderlo a martellate nonostante avesse già la Taurus 40 perché lui la sottrae proprio a Jeff Trail in un paio di giorni prima perché Jeff gli aveva concesso di stare a casa sua qualche giorno mentre lui era fuori con un compagno e lui curiosando nella casa di Jeff Trail trova la Taurus 40 e se la intasca con relativo munizionamento quando va a cena con David Manson e Jeff Trail a casa di David Manson lui in realtà sa già che Jeff Trail non ne vuole sapere di lui e si porta dietro la Taurus 40, la pistola ma in quell'occasione però decide di usare un martello che era in una borsa disponibile perché David Manson stava facendo dei lavori di ristrutturazione a casa quindi questa borsa con tutti gli attrezzi era disponibile, era diciamo nel salotto quindi prende questo martello e comincia a colpire in maniera violentissima la testa di Jeff Trail finché lo uccide David Manson è terrorizzato e lo aiuta a occultare il corpo di Jeff Trail dentro un tappeto lo mettono dietro il divano della casa di questo David Manson dopodiché Manson passa tre giorni con Cunanan lo vedono anche i vicini di casa andare in giro col cane di David Manson andare in macchina insieme li vedono al ristorante quindi sembrano assolutamente tranquilli in realtà probabilmente Jeff insomma David Manson stava cercando di convincerlo a costituirsi perché a un bel giorno quando tutti si convincono che l'omicidio di Jeff Trail che nel frattempo viene ritrovato a casa di David Manson ve la faccio breve se volete i dettagli nel libro ci sono tutti naturalmente e lo trovano assassinato anche lui con tre colpi d'arma da fuoco sempre con la Taurus vicino al lago Rush quindi praticamente in uscita da Minneapolis quindi evidentemente David Manson si è diciamo sottratto alla richiesta di Cunanan di scappare insieme e Cunanan l'ha eliminato perché a quel punto era diventato un testimone scomodo dopodiché Cunanan ha bisogno di soldi perché naturalmente soldi non ne ha con la macchina di David Manson va verso Chicago dove si reca a casa di questo ricchissimo imprenditore diciamo settantenne Lee Miglin lì ci sono due scuole di pensiero però io ho avuto modo di accedere a un report dell'epoca dell'FBI dove si sostiene che in realtà l'anno prima Cunanan venne fermato in un'automobile molto diciamo lussuosa con all'interno due altri uomini uno di questi era Lee Miglin che però sulla carta era eterosessuale sposato con un figlio grande e quant'altro morale della favola trovano la macchina di David Manson a pochi isolati dalla casa di Lee Miglin e dentro il garage questa lussuosa abitazione trovano il cadavere di Lee Miglin che è l'unico cadavere che è stato torturato diciamo con Lee Miglin Cunanan passa molto più tempo che con le altre vittime proprio nell'azione omicidiaria e prima di ucciderlo lo sevizia con tutta una serie di modalità peraltro avvolgendo il capo con del mastro adesivo che simulando un po' quelle maschere da Sadomaso che spesso utilizzava Cunanan perché tra le altre cose era anche diventato uno schiavo sessuale BDSM molto gettonato e aveva partecipato anche a delle pellicole di questo tipo chiaramente proposte al mondo omosessuale quindi era come se nel torturare e seviziare Lee Miglin in maniera veramente molto molto feroce in qualche modo lui stesse annientando quella parte di sé che evidentemente non riusciva più a elaborare da Lee Miglin sottrai denaro contante sottrae anche una collezione di monete d'oro sottrae degli abiti si cambia si veste si rade fa la doccia insomma usa la casa di Lee Miglin con molta tranquillità segno evidente che sapeva che quella sera quell'uomo sarebbe rimasto da solo perché la moglie era fuori città il figlio non viveva più lì dopodiché prende questa lussuosa Lexus di questo Lee Miglin e fugge si rende conto però che c'è questo telefono e quindi si rende anche conto che la macchina è facilmente tracciabile quindi deve rapidamente nel giro di un paio di giorni al massimo trovare un altro mezzo cosa che farà uccidendo il povero William Rees davanti al cimitero in una cittadina diciamo fuori dalla diciamo da Minneapolis fuori dalla parte della contetta di Chicago per arrivare poi per dirigersi verso verso Miami quindi i primi quattro omicidi sono veramente l'uno in qualche modo sulla scia dell'altro ma motivati o dal desiderio di avere denaro o di reperire altri beni o dalla rabbia quindi c'è una condizione compulsiva fondamentalmente cioè risponde a esigenze che non sono legate a uno schema comportamentale specifico mentre normalmente i seriali hanno una modalità esecutiva innanzitutto che solitamente poi riguarda una particolare fantasia che si codifica poi con delle condotte che sono tipicamente abbastanza simili di scena in scena di omicidio ma soprattutto c'è un intervallo temporale che differenzia i vari eventi criminali che normalmente è più significativo quindi il cosiddetto cooling off o raffreddamento qui non c'è c'è nel momento in cui aspetta Versace Versace è l'unica vittima nella serie omicidiaria di Cunanan che lui sceglie con uno specifico obiettivo diventare immortale e la sceglie proprio perché sceglie di uccidere Versace sapendo che quella è l'ultima è l'ultimo atto della sua vita perché non ha nessuna intenzione di andare in prigione perché non ha più nessun amico al mondo perché non ha nessuno a cui rivolgersi perché tutta la polizia d'America ormai è sulle sue tracce anche se come vedremo forse non in maniera così efficace come ci sarebbe piaciuto credere e di conseguenza a quel punto sceglie e aspetta due mesi l'arrivo di Gianni Versace per cui diciamo che se parliamo di serial killer parliamo di un serial killer è davvero atipico nella parte iniziale è uno spree killer cioè lui agisce veramente una sorta di orgia criminale tutta una serie di omicidi che sono l'uno in qualche modo motivato da quello precedente quello successivo quindi tecnicamente è più diciamo da collocare come spree killer ed è un po' anche l'impostazione che anche l'FBI quando diciamo nei vari articoli di professionisti dell'FBI che parlano di Qunanan tendono a classificarlo come spree killer non come seriale guardate questo libro è un saggio chiaramente ma è un romanzo al tempo stesso Ying Yang io l'ho letto con una passione ecco un interesse l'ho divorato francamente sono sicuro che lo divorerete anche voi l'ho scritto un po' con l'obiettivo di far raccontare proprio la storia ora al di là dell'aspetto criminologico criminalistico le tracce c'è tutto c'è anche questa parte però è proprio per collocare dentro una narrazione cioè quello che succede in questa vicenda è ampiamente prevedibile sulla scorta di una serie di elementi che fanno parte della storia precoce di Qunanan la vittima finale è Versace perché Versace è il simbolo e lui stava cercando di uccidere un simbolo perché solo se uccidi un simbolo diventi immortale o tanto per chiudere la vicenda poi lo racconterà meglio Roberta Qunanan non viene arrestato immediatamente verrà trovato morto suicida con la stessa arma all'interno di una houseboat forse di un personaggio poi stranissimo di cui magari ci parli però un altro elemento che collegava con la storia di di Forti cioè la houseboat sulla Collins dove viene trovato Qunanan ormai deceduto per un colpo d'arma da fuoco la Taurus era sul letto sdraiato ha aperto la bocca e si è sparato la diciamo il proietto non ha trapassato il cranio è rimasto all'interno della teca cranica nella zona della nuca e quindi c'è una fuoriuscita diciamo emorragica vuoi spiegare perché il proiettile non fuoriesce? non fuoriesce perché è un monizionamento morbido quindi essendo un proiettile ma infatti uno dei proiettili della Taurus è rimasto anche dentro il corpo di di David Manson e uno è rimasto anche dentro il corpo di William Rees quindi comunque è diciamo è anche uno è rimasto nel cranio di Gianni Versace per cui non era un monizionamento anche se il calibro è un calibro importante un'arma con un calibro importante diciamo molto molto potente in realtà però il tipo di monizionamento essendo scamiciato piombo morbido quando incontra una superficie dura come può essere chiaramente anche la superficie diciamo della interna della teca cranica in quella particolare porzione si deforma e l'energia cinetica si dissipa all'interno della scatola cranica quindi è rimasto all'interno il proiettile il volto di Chino è integro è perfettamente integro c'è un rivolo di sangue che fuoriesce da uno degli orecchi perché chiaramente è un versamento che deriva dall'emorragia interna nella scatola cranica però lui rimane assolutamente come se stesse riposando su questo letto fondamentalmente l'arma gli rimane tra diciamo nella zona che dall'incavo diciamo dell'area inguinale e viene trovato lì otto giorni dopo quando ormai lui sa benissimo di aver raggiunto il suo obiettivo perché tutte le televisioni americane parlano di lui tutti quanti gli danno la caccia e chiaramente tutti quanti hanno capito che lui è l'assassino di Gianni Versace quindi diciamo che il suo biglietto di sola andata per l'immortalità ormai lui l'aveva acquistato quindi non serviva altro anche perché non aveva nessuna realistica possibilità di sottrarsi alla cattura se non con la morte perché insomma e in caso di cattura col soggetto ancora vivo gli sarebbe insomma davanti aveva solo una prospettiva come minimo un ergassolo probabilmente anche la pena di morte in tutto questo bagno di sangue abbiamo una sesta vittima innocente un piccione eh già questo povero piccione innocente viene centrato da un frammento di piombo di queste famose munizioni morbide quindi non camiciate non blindate che l'arriva resta sul posto e su quel piccione si imbastiscono delle bestialità inconcepibili cioè come se fosse un segnale non so di cosa nostra come facciamo un manzone e ci crede sai qual è la parte più terribile aspetta perché voglio arrivare alla domanda finale perché Roberta cita il principio fondamentale del pensiero scientifico il rasoio di Occa spieghiamo il rasoio di Occa ma spieghiamo come mi viene in mente il caso dell'olgiata servizi segreti fondi neri così è il maggiordomo manco come mai alle volte i nostri e i loro investigatori si imbarcano in delle congetture spaventose quando la realtà ce l'hai davanti agli occhi come questa bottiglia d'acqua perché cos'è il rasoio di Occa ma perché il rasoio di Occa è uno dei principi che guidano coloro che come me si occupano di ricostruzione della scena del crimine comunque di lettura scientifica delle tracce ossia a parità di elementi la spiegazione più semplice è quella da preferire quindi se gli elementi che hai sono spiegati dalla soluzione lineare semplice che li include tutti quella è da preferire rispetto ad altri scenari che chiaramente invece comportano una lettura di quei dati decisamente più arzigogolate meno lineare diciamo che questo è un po' il principio cardine insomma delle scienze forensi o quantomeno è il principio che orienta chi come me opera in questo tipo di settore quindi a me serve avere uno scenario che mi integra tutti gli elementi che ho ma in una modalità che sia lineare che quindi unisca tutti i vari puntini senza andare a cercare letture diciamo complesse o addirittura diciamo fantasiosi cosa succede qui come abbiamo detto anzi forse non l'abbiamo detto lo diciamo adesso cosa succede il 15 luglio Gianni Versace peraltro doveva arrivare una settimana successiva a Miami ma siccome dopo il successo delle sfilate parigine milanesi era stanco qualche anno prima aveva avuto una malattia anche abbastanza complicata quindi era un po' provato da questa situazione quindi decide di anticipare l'arrivo a Miami in questa casa bellissima che aveva sulla Collins casa appunto su Ocean Drive la villa Casuarina comprata per quanto comprata per quanto? 33 milioni di dollari all'epoca sì è ristrutturata con una cifra anche ben superiore insomma comunque una una struttura meravigliosa Morale torna lì due giorni prima sostanzialmente tempo di arrivare lì lui tutte le mattine fa la stessa cosa esce di casa intorno alle 8 e va a fare colazione al vicino News Café un bar insomma legge i giornali insomma fa le sue una sorta di routine assolutamente rilassata no? sulla meravigliosa Ocean Drive torna quindi quella mattina fa esattamente la stessa cosa esce di casa intorno alle 8 va a News Café si prende il suo caffè si legge i suoi giornali con la massima tranquillità torna verso casa sono 800 metri a un certo punto i 15 testimoni presenti perché c'erano 15 persone mentre succedeva tutto e a un certo punto si avvicina a lui un soggetto con le bermuda a media altezza fisico abbastanza prestante che gli dice Mister Versace Gianni non ha neanche il tempo di girarsi il primo colpo lo attinge praticamente e passa il cranio nella porzione posteriore diciamo della teca cranica e quello diciamo già un colpo trapassante che è il famoso colpo che poi impatterà su una diciamo delle barriere insomma della ringhiera che c'era e carambolando purtroppo trafiggerà il nostro piccione che era nel posto sbagliato sventurato che cadrà poi a circa 6 metri dal colpo di Versace quindi lo troveranno lì ed è stato sottoposto a perizia medico legale anche il piccione c'è anche quel documento è chiaro perché perché questo perché immediatamente dopo la voce del ritrovamento di questo famoso piccione il secondo colpo poi Gianni cade a terra mentre a terra chi non gli si avvicina proprio a distanza ravvicinata e gli spara in faccia secondo colpo infatti si conficherà proprio a distanza all'altezza del volto dello zigomo quindi una un'esecuzione lo portano all'ospedale ma chiaramente quando arriva all'ospedale è già in condizioni disperate di lì a poco constateranno il decesso nel frattempo trovano questo famoso piccione a sei metri diciamo dal corpo di Versace e cominciano immediatamente a diciamo germogliare tutta una serie di ipotesi più o meno fantasiose in relazione al fatto che secondo una sorta di codice se vogliamo simbolico tipico della criminalità organizzata soprattutto dell'epoca precedente quando moriva qualcuno perché aveva diciamo fatto uno sgarro all'organizzazione criminale o perché aveva chiacchierato troppo perché non aveva seguito certe indicazioni il soggetto in questione veniva fatto insomma trovare morto con un uccellino in bocca ok quindi quella era una sorta di firma della criminalità organizzata che riportava questo tipo di diciamo di situazione quindi loro trovano sto piccione lì e immediatamente una serie di giornali che poi si sono trovati a pagare sostanziose condanne per diffamazione siccome c'era sto piccione a qualche metodo di distanza dal corpo quella era una sorta di firma sul delitto e quindi per una insomma sette otto giorni tutti i giornali campeggiavano i principali giornali americani ma anche di altre parti del mondo con articoli che adombravano l'intervento della criminalità organizzata per far in qualche modo chiudere la bocca definitivamente a Gianni Versace che era una roba che insomma fu abbastanza impattante perché insomma si ipotizzavano insomma scenari veramente molto gravi anche di connivenze con la criminalità organizzata insomma in virtù anche del fatto che Versace la famiglia Versace fosse calabrese quindi ci avevano costruito sopra un florilegio di speculazioni veramente folli quando in realtà quel piccione era lì perché e gli hanno trovato proprio il frammento di proiettile della Taurus quello che si è deformato uscendo dal cranio di Versace e si è diciamo si è spezzato impattando sul diciamo sul materiale del cancello e in realtà è stato un evento assolutamente fortuito che però per anni ha scatenato una serie di speculazioni spaventose io non ho fatto altro che riportare quello che c'è nell'autopsia del piccione ossia la presenza di questo frammento che gli ha spezzato praticamente la spina dorsale e l'ha ucciso sul colpo quindi è caduto a terra a pochi metri purtroppo da Gianni Versace questo è bastato c'è la mera presenza assolutamente fortuita e imprevedibile di questo povero volatile morto ammazzato anche lui che ha scatenare un inferno di fantasie di ricostruzioni assolutamente anche molto gravi e diffamatori Epilogo Cunanan si rifugia in questa casa vacanza tra l'altro è intestata un personaggio che si è autonominato principe capo di stato di un fantematico stato inesistente principato di Sealand una piattaforma ex militare davanti all'Inghilterra questo qui si è impossessato di questa piattaforma l'ha proclamata principato batte moneta e addirittura emanava passaporti peraltro questo Thorsten Reineck per il tramite del suo prestanome Mattias Ruel possedeva la housebot sulla Collins era il proprietario dell'Apollo Spa di Las Vegas club molto rinomato all'epoca chiaramente del jet set internazionale di tipo omosessuale ed era un soggetto molto particolare che io avevo già trovato nella storia di Chico Forti perché era legato a un altro tedesco molto diciamo molto ambiguo molto opaco e decisamente diciamo inquietante ossia Thomas Knott che ha un ruolo centrale nella storia di Chico Forti quindi questo Thorsten Reineck era riapparso anche qui lo stesso Cui Nanan aveva un passaporto di Sealand quindi passaporto falso ovviamente parlo certo però ce l'aveva ciò significa che dei contatti con Reineck deve averli avuti per forza perché non era qualcosa facile da ottenere anche se totalmente inutile quindi che lui sia andato a finire proprio nella casa di Reineck probabilmente quella indicazione l'aveva ricevuta da qualcuno cioè della serie stai lì lì non ti verranno a cercare se non che per anche lì mera fatalità a un bel momento arriva insomma l'anziano custode dell'housebot che ogni tanto passava per vedere insomma se era tutto ok e entra si rende conto che l'occhetto della porta posteriore è forzato capisce che dentro qualcuno si è diciamo un po' si è introdotto perché si vedeva che siccome la casa era utilizzata e al piano di sopra sente un'esplosione un colpo d'arma da fuoco esce di casa tutto allarmato con lui c'è l'anziana moglie chiamano il figlio che a sua volta chiama la polizia è chiaro che tutta Miami in quel momento sono otto giorni che ogni singolo operatore di polizia è concentrato nella caccia quindi casa galeggiante insomma disabitata soggetto all'interno colpo d'arma da fuoco uno più uno fa due quindi tutta la polizia di Miami vigili del fuoco l'FBI tutti quanti si precipitano insomma davanti all'housebot sulla collis e lì nel libro c'è tutto il resoconto dell'intervento della forza delle forze di polizia comprese il reparto speciale fino al momento in cui trovano al piano di sopra il corpo di Cunanan quindi Cunanan si uccide con la stessa arma con cui ha commesso l'ultimo omicidio e l'omicidio precedente si uccide quasi in diretta mentre il custode e la moglie stanno ispezionando la houseboat ci sono tracce cioè il tatuaggio sulla mano la spara le impronte ma io immagino fosse accaduto da noi soprattutto i miei colleghi giornalisti quanto avremmo fantasticato sul fatto che l'avevano ammazzato io ho visto dei servizi anche recenti di diverse trasmissioni che approfondivano la vicenda con sedicenti esperti di questo tipo di tematiche dire delle castronerie su quell'arma e sulla modalità in cui è stata repertata peraltro sono disponibili le foto quindi è facilmente diciamo smentibile che tu veramente ti sorprendi perché ti rendi proprio conto che insomma probabilmente insomma il concetto di esperto nel nostro paese è molto generoso insomma non ci vuole molto per ottenerlo perché ti rifiuti proprio di credere che qualcuno che si definisce esperto di queste materie possa arrivare a dire le castronerie di quel livello insomma senza peraltro mai avuto modo di esaminare neanche una riga di un atto quindi cioè lì non c'è nessun dubbio la modalità con cui lui esplode il colpo d'arma da fuoco aprendo la bocca peraltro è perfettamente coerente il rigor mortis instaurato era coerente con l'epoca della morte in base allo spario indicato dal guardiano e dalla moglie cioè tutti i dati di natura medico-legale sono perfettamente coerenti con l'esplosione del colpo all'interno dell'housebot il sangue presente che cola dimostra che la salma non è stata spostata perché avremmo avuto una distribuzione del pattern ematico se quella salma fosse stata spostata che dava dei riscontri particolari che invece non ci sono cioè tutto il corredo diciamo di tracce sia medico-legali che criminalistiche dimostrano che quella salma da lì non si è mai spostata e che quindi il decesso è avvenuto esattamente nella posizione in cui è stato documentato Chiunanan dalla forza di polizia prima di spostare la salma ora anche noi in Italia nel nostro piccolo i nostri assassini seriali li abbiamo avuti e non recentemente penso al mostro di Nepal alla saponificatrice e poi più recentemente Donato Bilancia Maurizio Giuliano il lupo dell'agropontino e il vino e Mario Galgiulo che ammazzano tre persone e forse mangiano addirittura i cadaveri quali sono sostanzialmente le differenze tra l'omicidio sessuale sessuale scusate questo è l'abso sfreudiano l'omicidio seriale negli Stati Uniti e in Europa o soprattutto in Italia ma guarda una grossa differenza in termini diciamo generali non c'è lì bisogna leggere quelle che poi sono le matrici motivazionali cioè noi quando parliamo di seriali possiamo parlare di soggetti che agiscono sulla scorta di moventi e di scenari molto diversi diciamo che i serial killer più noti e più studiati a livello internazionale e anche a livello nazionale sono quelli che hanno agito sulla scorta di un movente di natura sessuale cioè soggetti che di solito avevano disturbi tipo parafilico molto gravi e che proprio quelle fantasie sessuali perverse abnormi diciamo distruttive hanno poi caratterizzato le loro condotte sulla scena perché hanno portato a sviluppare delle fantasie con dei bisogni sessuali particolari alla base quindi in base a quello diciamo grossissime differenze non ce ne sono cioè in base la lettura è poi di base psicopatologica in base al tipo di parafilia o di disturbo parafilico poi tu trovi sulla scena delle condotte sulla vittima che sono coerenti col tipo di bisogno chiaramente patologico che il soggetto deve soddisfare quindi in questo grosse differenze tra quelli americani e quelli europei se vogliamo non li ravviserei poi ci sono altri soggetti che hanno agito sulla scorta di altri tipi di scenari quelli che avevano in qualche modo interesse a eliminare una particolare categoria di vittime purtroppo molto spesso le prostitute non perché vi fosse una lettura sessuale della condotta ma perché c'era una voglia di ripulire il mondo rispetto a più una diciamo a un movente di natura diciamo più quasi paranoidea religiosa cioè della serie io mi attribuisco il ruolo di liberatore rispetto a chi viola determinate regole o chi sporca o insozza il mondo con la sua condotta quindi ripeto ci sono degli aspetti poi ci sono anche quelli che hanno agito sulla scorta anche di quelli più disorganizzati che hanno agito sulla scorta invece di problematiche mentali molto serie e psicotiche e lì troviamo veramente di tutto dal vampiro di sacramento che era convinto che se non beveva il sangue delle persone il suo si trasformasse in polvere quindi ha ucciso e dissanguato una serie di vittime perché temeva chiaramente purtroppo in maniera coerente con la sua patologia gravissima che l'unico modo per sopravvivere fosse bere sangue umano fresco fino ad arrivare a quelli che agiscono invece per ragioni legate all'opportunità e al guadagno in questo molto spesso compaiono anche le donne serial killer quindi donne che hanno ucciso più volte proprio perché dall'omicidio seriale traevano un vantaggio di natura economica insomma lì ne abbiamo avute diverse anche lì quindi ripeto non ci sono grosse differenze in termini poi di condotte le tipologie più o meno sono sempre queste anche noi abbiamo avuto dei serial killer sessuali che non hanno nulla da invidiare a un Ted Bundy o a un Jeffrey Dahmer insomma Gianfranco Stefanin era chiaramente un serial killer sessuale con tutte le sue diciamo con tutte le caratteristiche proprio tipiche da manuale e un Giancarlo Giudice anche insomma aveva questa modalità di strangolare le prostitute perché questa era la sua dimensione eccitatoria massima abbiamo avuto Minghella che in più occasioni anche a distanza temporale molto ampia tra la prima serie e la seconda una volta messo fuori ha ripreso esattamente quello che faceva prima di essere condannato quindi abbiamo avuto anche noi insomma diversi seriali particolari abbiamo avuto anche con Ludwig anche i serial killer che in qualche modo dal loro punto di vista facevano pulizia etnica quindi le matrici sono più o meno sempre le stesse diciamo la matrice culturale può incidere sulla modalità magari più specifica o su alcune tecniche che possono utilizzare per sottrarsi alla cattura ma la maggior parte degli schemi mentali sono abbastanza ripetitivi c'è una gemma una pietra preziosa incastonata in questo libro ed è alla fine l'appendice in genere le appendici dei libri sono noiose questa io l'ho letta con un interesse pazzesco perché è più o meno la storia della criminologia la criminologia è una scienza moderna così come la intendiamo ma precedenti antichi pensate i primi profili sono quelli di Jack lo squartatore ora io non ti chiedo di fare il come dire l'escurso storico della criminologia ma qual è oggi soprattutto da noi con il nostro sistema giudiziario il ruolo del criminologo o come investigatore o al contrario come consulente della difesa ma guarda allora l'appendice del libro è proprio un viaggio nella storia del profiling quindi dell'utilizzo della criminologia in ambito investigativo diciamo la tecnica di supporto all'indagine che oggi è ampiamente utilizzata io sostanzialmente in ogni caso di cui mi occupo utilizzo quel tipo di tecnica per ricostruire tutta una serie di informazioni attraverso una chiave di lettura che si basa sulle tracce comportamentali quindi una tipologia di tracce che nel nostro ordinamento ancora pochi riescono a maneggiare con una certa esperienza una certa competenza quindi oggi è un ruolo determinante nel senso che io parlo della mia realtà non è ancora una figura diciamo affermatissima nel senso che siamo pochissimi a fare davvero questo tipo di lavoro al netto di quelli che chiacchierano in televisione sul campus e sulla scena e in dibattimento insomma non ne vedo sostanzialmente quasi mai per cui è ancora qualcosa che si sta affermando ma indubbiamente è un'attività molto ampia io ricevo incarichi dove mi vengono sia dalla magistratura che dalla parte a volte dalla parte civile a volte anche dalla difesa dell'imputato dove mi viene richiesto di ricostruire tutto quello che è il materiale acquisito nel fascicolo quindi testimonianze prove, tecniche accertamenti approfondimenti di qualunque natura informatici medico-legali genetici però inserendo ogni tipo di informazione in una ricostruzione più ampia quindi andare a definire uno scenario più ampio poi c'è l'altra area molto utilizzata in queste tecniche dove veramente lavoro tantissimo anche proprio per la magistratura che sono la cosiddetta autopsia psicologica che sono l'applicazione di questo tipo di tecniche ovviamente io essendo psicologa qui li rientra proprio in questo tipo di diciamo di ambito professionale per ricostruire lo stato mentale di un soggetto al fine di valutare le circostanze del decesso quando magari non sono chiare e le piste da seguire potrebbero non essere diciamo ancora quelle proprio definito sia potrebbe trattarsi di un suicidio potrebbe trattarsi di un omicidio mi succede molto spesso di lavorarci nei casi di persona scomparsa per capire se potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario se c'era uno scenario suicidario di massima oppure se effettivamente è un omicidio con conseguente occultamento di cadavere quindi sono diciamo oggi è una tipologia di competenza che viene richiesta sempre più spesso sotto questo aspetto ma è tra tutti i casi ripeto importantissimi che tu hai trattato ce n'è uno che ti è rimasto che ti ha intanto immagino che sia quasi impossibile non essere coinvolti emotivamente chiunque chiunque che vedere con la morte per lavoro è coinvolto emotivamente si mette una corazza emotiva ma ce n'è uno che ti ha sconcertato di più allora intanto giustamente come hai ribadito non ci si abitua mai chiaro che ci si attrezza perché la competenza la professionalità ti aiutano a difenderti rispetto a quello che è l'impatto emotivo guarda faccio fatica a fare una una classifica perché ogni caso essendo tutte vicende complesse sia quelle note che quelle meno note insomma hanno portato e portano via tanto tempo e tanto impegno diciamo che un caso su cui credo che ancora ci sia da riflettere e su questo ci stiamo lavorando proprio in questi giorni sicuramente riguarda la strage di erba io la settimana scorsa ho consegnato la mia consulenza tecnica all'avvocato Schembri relativa a tutta la ricostruzione delle tracce quindi di quello che è successo nella criminodinamica in base alle tracce di sangue confrontando quello che emerge dalle sgangherate confessioni rese dei due è una delle consulenze che verrà depositata a breve nella richiesta di revisione sicuramente quella è una vicenda che mi ha mi ha fortemente diciamo per certi versi cambiato ho fatto una fatica tremenda a rimettere mano al fascicolo perché dovevo fare questa consulenza tecnica ulteriore e mi è costata una fatica spaventosa perché lo ritengo davvero un errore giudiziario straordinariamente grave quindi se devo proprio mettere in cima la classifica dei casi complessi di cui mi sono occupata sicuramente questo è uno di quelli che occupa il podio insomma certamente un altro caso su cui mi sto impegnando a fondo perché credo fermamente che l'ipotesi accusatoria sia quella corretta riguarda la morte di Serena Mollicone è stato recentemente insomma si è concluso recentemente il processo di primo grado quest'estate con una soluzione che ha sorpreso tutti sinceramente insomma quantomeno noi che ci siamo occupati del caso e ora lavoriamo all'appello e anche questo è un caso che dove mi sto veramente impegnando a fondo perché ritengo che davvero questa ragazza meriti giustizia ritengo fondata l'ipotesi accusatoria quindi primo grado è andato così ora ci impegneremo ancora di più ancora più a fondo per l'appello io credo che tu sia diventata un personaggio così noto e così televisivo non solo per la bellezza la capacità professionale ma anche per la pietas perché poi Roberta nonostante qualcuno possa pensare che è diventata cinica insensibile dimostra sempre una profonda coinvolgimento umano quando ci sono dei morti però la domanda è un'altra è la televisione come dicono tanti come accusano tanti influisce le indagini le indagini televisive i cosiddetti processi mediatici gli inviati delle trasmissioni di cronaca che strano i testimoni parlano con gli investitori l'osservazione di un fenomeno come dice Einstein cambia il fenomeno stesso o no lo cambia in bene lo cambia in male allora probabilmente l'attenzione mediatica se proprio possiamo dire almeno da quello che posso aver visto io ormai più di 24 anni di attività più che allora i giudici non li influenza posso dirvi state tranquilli perché i giudici di quello che diciamo in televisione non gli può fregare di meno neanche al massimo dell'impegno i giudici decidono in base a quello che hanno a quello che il processo ha prodotto la prova si forma in dibattimento e quindi dal punto di vista delle decisioni i giudici vanno per la loro strada tu puoi fare quello che vuoi a livello mediatico non cambia la virgola questo ve lo do per certo l'inchiesta cioè la fase dell'indagine preliminare cosiddetta probabilmente un po' della pressione mediatica risente nel senso che ho visto effettivamente qualche errore di troppo qualche incertezza di troppo in certe situazioni che probabilmente è stata dettata proprio dalla grande attenzione mediatica che in quel momento c'era sul caso nel corso degli anni chiaramente errori che naturalmente non è che abbiano inficiato diciamo alcunché però probabilmente qualche piccola scivolata devo dire l'ho vista quello che posso dirvi è che sempre più spesso questo con la massima diciamo un'està intellettuale sempre più spesso le interviste le lasciate da testimoni o soggetti diciamo coinvolti a vario titolo la cui posizione può anche cambiare nel corso dell'inchiesta diventano fonte di prova perché vengono acquisite dalle procure ce le troviamo poi nel fascicolo investigativo addirittura nel fascicolo del dibattimento e anche i video dei sopralluoghi fanno parte di questo mi sono trovata in un caso che stiamo affrontando adesso siamo proprio in sede di appello con diciamo il caso di Maria Sestina Arcuri io faccio parte della consulente della difesa di Landolfi che è stato assolto con formula piena da un'ipotesi accusatoria che voleva insomma che vale un ergastolo ora siamo in appello e devo dirvi che un video di uno dei consulenti della procura che diceva cose assolutamente a noi favorevoli che poi incredibilmente questa persona ha cambiato diciamo in corso di inchiesta noi l'abbiamo utilizzato proprio per dimostrare diciamo a nostro modo di vedere ma evidentemente la corte assise di primo grado è stata d'accordo con noi la scarsa affidabilità delle valutazioni fatte diciamo da un soggetto che in quella sede escludeva in maniera ferma che potesse essere stata lanciata dal parapetto ma anzi caduta dalle scale accidentalmente come abbiamo sempre sostenuto noi e che poi questa ricostruzione era cambiata in maniera anche diciamo senza motivare questo cambiamento così radicale quindi ripeto tutto questo ormai entra entra nell'inchiesta entrano le testimonianze entrano tutta una serie di elementi quindi questo sì in questo senso la tv è dentro i processi ma in questa prospettiva purtroppo è come grande dolore dalla regia mi fanno segno che abbiamo cinque minuti io starei qui fino a mezzanotte quindi se c'è qualcuno che ha da fare qualche domanda a Roberta parli adesso o taccia per sempre intanto io vi ricordo che c'è il libro lì questo lo devo dire io e vabbè te lo dico pure io da genovese è sempre importante cassato dal verbale domande per Roberta nessuna mano si alza la lega della facoltà di non domandare vi state allenando nel caso in cui veniste indagati bene allora l'ultima domanda la faccio io ed è di bruciante attualità femminicidi stalking la strage delle donne omicidi di genere se ne parla tantissimo le statistiche confermano che siamo in crescita no o al contrario la percezione la percezione di crescita c'è il problema grosso che le statistiche confermano che il dato è stabile e non è una buona notizia ok cioè noi abbiamo stabilmente mediamente un 120 omicidi l'anno a volte di più a volte leggermente di meno da circa 30 anni quindi al di là dell'aumento effettivo che probabilmente non c'è nel senso che non è che abbiamo drastici aumenti di anno in anno più o meno il dato è abbastanza stabile il problema grosso è proprio questo che è un dato stabile e questo ci dice che non è un problema emergenziale ma è una problematica di tipo strutturale che attinge copiosamente al tipo di modelli di genere al tipo di modelli educativi e al tipo di messaggi che ancora oggi tempestano la mente di ciascuno di noi uomini e donne basta dare un'occhiata a un altro mio libro che ho scritto due anni fa che si chiama favole da incubo vi renderete conto quanto gli stereotipi di genere di fatto siano coinputati insieme a tutti coloro che li praticano e qui ci dobbiamo mettere tutti noi in questo tipo di vicende quindi l'aumento in termini numerici non c'è nel senso che c'è un'oscillazione di anno in anno a volte c'è un piccolo aumento a volte c'è una piccola diminuzione ma il dato è stabile ed è l'epifenomeno cioè la parte visibile di un iceberg sommerso di violenza maltrattamenti abusi psicologici fisici sessuali che è il vero problema perché noi dobbiamo arrivare a quel tipo di vittima se ci metti in mezzo poi che solo due vittime su dieci arrivano a maturare la decisione di denunciare capite bene che la problematica è molto seria ma è di matrice culturale magari ne riparliamo l'anno prossimo insomma bene sono 197 pagine ci ho messo due ore e un quarto penso che voi ci metterete ancora meno perché io sono lento e il libro l'ho trovato uscendo sulla destra e trovate anche Roberta Bruzzone per il film a copie per il film a copie quindi grazie di essere venuti grazie a tutti grazie a Massimo non andate via senza questo libro perché rischiate di essere incriminati no più che altro che senza libro non so se vi fanno uscire dalla struttura io vi avviso insomma era solo perché buona serata grazie a tutti